Franceschi, racconta la barzelletta. Passa anche lì. Racconta la barzelletta, via. Che dici? Ci passo? Prova. Ha detto alla fine di oggi. Io non le so le barzellette. Via Franceschi, racconta la barzelletta. Ci passi. Ci passi. Ci passi, sì, ci passi. No, mio mare è così. Ma infatti tu dovevi usci da lassù, capisco perché. Ah ma sta facendo un video. Che cosa? Che ne pensi di questa pinciata? Che hai fatto? Non ci ritorno più a taverne d'arte, c'è le buche. Le buche.